alle eccoci qua allora laggiù vediamo se riusciamo a zoomare quelle casette laggiù quella lì è italia questa qua è svizzera la dogana svizzera quindi siamo siamo esattamente in svizzera arrivo caro arrivo faccio il filmatino che siamo finalmente in terra svizzera con pietro che si lava la ponte svizzera la cascata che non inquadriamo da dove viene perché sarebbe triste farlo vedere la su non si vede c'è una bandiera svizzera molto svizzera suolo svizzero con l'autobus che fa manovra laggiù non si vede molto scuro ok ok va bene per pietro facciamo il filmatino alla macchina che arriva fa vedere che questa quella dopo sto cazzo fa in saluto alla svizzera ciao ciao svizzera destinazione di la destinazione la diciamo quando arriviamo e inquadriamo il cartello quando arriviamo ciao ciao siamo in svizzera